Qui abbiamo Vera, che sta cercando di individuare il sesso dello scorpione. Eccoci qua, vicino a Totò. Siamo tornati, un minuto. Dov'è? Comunque, stiamo per andare ad affrontare la nostra ultima piccola grande avventura, speriamo qui in Sudafrica, perché andremo a visitare per la seconda volta un parco africano, l'unico parco africano che visiteremo due volte in tutto il continente. Siamo Aldo, Vera e Totò. Da oltre otto anni andiamo in giro per il mondo, a bordo del nostro fuoristrada camperizzato, e abbiamo già visitato più di cento paesi su tutti i continenti. Un sogno diventato realtà. Stiamo risalendo lungo la costa ovest africana, in quella che sarà la parte più difficile del nostro viaggio. No, 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 basta! Clicca su iscriviti e uniscite alla nostra avventura. Ed eccoci qui al Galagadi Transfrontier Park, il primo parco che abbiamo visitato in Sudafrica. L'ultimo parco che visiteremo in Sudafrica è l'unico parco nazionale che visiteremo due volte in tutto il continente africano. Ma perché questo? Beh, per due motivi. Il primo è quello che ci è piaciuto davvero tanto. E il secondo è che questo parco non condivide il confine soltanto col Botswana, ma anche con la Namibia. Quindi, qui a Piriveren, sbicheremo le pratiche di uscita da Sudafrica. Trascoleremo quindi circa una settimana in quella che non voglio chiamare terra di nessuno, ma zona neutrale. Per poi andare a Matamata, che si trova a 150 km a nord ovest da qui, dove effettueremo le pratiche d'entrata in Namibia. Quest'anno il parco è stato premiato come il best performance di tutto il Sudafrica. Ma onestamente non sono meravigliato, perché devo dire che questo è il parco più curato che abbiamo visitato qui in Sudafrica. Amore, sei pronta? Sì! Sembra ieri che eravamo qui. Sono passati quasi tre mesi. Bellissimo! Non importa quanti innumerevoli leoni e leonesse abbiamo già visto, ogni volta è sempre come se fosse la prima. Un passo dopo l'altro, con eleganza e fierezza, questa leonessa adulta passeggia sul sentiero, passandoci a pochi metri di distanza. La seguiamo. Dove stanno andando? Tra le cespugli, nascosta dietro un albero, c'è la carcassa di un orice, probabilmente cacciato il giorno precedente dal branco. È ora di cena e la leonessa non perde tempo a rosicchiare quel po' di carne che è rimasta tra le ossa del torace e la pelle delle zampe. Per quanto possa sembrare una scena macabra, restiamo lì ad ammirare la leonessa e di come minuziosamente e pazientemente cerca di sfilacciare tutto ciò che sia commestibile. Questo ci ricorda di quanto perfetta e bilanciata sia la natura. Nulla è sprecato. Gli animali selvaggi si cibano solo del minimo di cui hanno bisogno per sopravvivere, rispettando l'ambiente e la natura che li ospita e circonda. Un'altra leonessa più giovane si avvicina, ma deve aspettare il suo turno prima di poter cenare anche a lei. A volte ci si sente dire se è un animale e questa frase viene interpretata come un'offesa. Beh, più che abbiamo a che fare con gli animali e più ci rendiamo conto che questa frase dovrebbe essere intesa e utilizzata per fare un complimento. Lo vedi? Sì. A chiusura del parco, con i minuti contati, riusciamo ad avvistare una coppia di leopardi. Sono fratello e sorella, ci sembra di capire. Questa è la prima volta che vediamo due leopardi allo stesso tempo. Una scena indimenticabile. Il leopardo è uno degli animali più elusivi e difficile da incontrare durante un safari. Il nostro primo giorno nel Calari già ha lasciato il segno. Speriamo che continui così. Una volta che pegiamo due leopardi assieme si conoscono. Lo struzzo con i piccoli di struzzo. Così piccolini? Un baby struzzo. Uno struzzino. Che bello è? è la prima volta che vediamo cuscioli di struzzo. Sembrano piccoli tacchini. Con l'arrivo della pioggia, quindi acqua e prati verdi, col cibo in abbondanza è il periodo migliore per le nascite di nuovi cuccioli. Omo lode, omo titio, ele e o lade. Omo lode, omo titio, ele e o lade. Omo lode, omo titio, ele e omo titio, ele e omo titio. Stiamo tornando a Nossock e la strada è completamente diversa da come ce la ricordavamo Innanzitutto c'è tantissimo più verde anche sulle dune quindi è bellissimo Prima era tutto arido, giallo e poi anche il percorso è cambiato perché avendo piovuto è tutto più storto, ci sono altri sentieri Comunque davvero affascinante C'è acqua nel fiume Nossock Prima volta in assoluto che stiamo mangiando a un picnic area e stiamo guardando davanti a noi meno di 100 metri i leoni incredibile dobbiamo fare attenzione Eccoli là, sotto quest'albero qua ne sono tre non sono neanche 100 metri da qui e lì bellissimo e noi qua a fare colazione insatata di frutta un po' di caffè un po' di burro di arachidi Oma Oma e così andiamo avanti bellissimo meraviglioso poi ce li stiamo godendo veramente il panorama con quei leoni bellissimo peraltro una cosa molto rara che non ci aspettavamo sarebbe successa qui in Sudafrica perché non puoi uscire dalla macchina Zimbabwe, Botswana più o meno potevi uscire era un po' più selvaggio tutto aperto ma qua devi avere la fortuna che se è una zona picnic sono venuti anche vicino ai leoni bello un altro bonus che siamo completamente da sole bellissimo la pausa picnic con i leoni resterà nella storia va bene rilassarsi ma dobbiamo comunque tenere gli occhi aperti uno, uno, tre è un leone infortunatamente non sembrano interessati a noi ma piuttosto a dissetarsi e restare all'ombra per proteggersi dal caldo torrido la giornata procede bene oggi guideremo per circa 200 km avvistiamo diversi orici e impala curiosi si avvicinano a noi senza aver paura ma quello che ci sorprende di più sono le dune del deserto del calari adesso in fiore tutto è coperto di giallo un paesaggio bellissimo che ci accompagnerà fino al tramonto ed eccoci qua benvenuti al nostro ultimo regalo della giornata due gufi reali africani oramai residenti anche loro del campeggio qui le luci di notte aiutano ad attirare insetti di cui cibarsi le avevamo già visti la volta scorsa e ci fa molto piacere che siano ancora qui a presto a presto un po' magra gli ultimi 2-3 giorni davvero tranquilli pochissimi animali ieri abbiamo fatto 170 km per vedere 2 iene adulte e 3 piccoli niente è un po' triste la situazione però la stagione è quella che è importante ovviamente due mesi fa era secca quindi qua avendo le pozze tutti gli animali che venivano qui ma adesso apparentemente ci ha detto una signora abbiamo parlato poco fa che l'imbotswana ha piovuto di più quindi gli animali sono spostati da quella parte ci ha detto questa cosa con la mano in bocca perchè ovviamente l'imbotswana c'è più bracconaggio quindi gli animali sono in pericolo niente siamo qui altre macchine da aspettare adesso c'è una qua a fianco a due se ne sono andate Vera sta cucendo quindi cerchiamo di fare qualcosa di utile continuiamo e speriamo di vedere qualcosa nei prossimi giorni perchè siamo quasi alla fine insomma ragazzi sfiga totale sono tutti rientrati questa qui è una lavagnetta magnetica dove ognuno pone i suoi avvistamenti qua siamo al nostro dove siamo ora i leoni quelli visti stamattina peraltro anche io non ho avuto neanche il tempo di riprendere questa roba di sfuggita e qui c'è la leggenda quindi il colore corrisponde all'animale che vedete a fianco niente zero prima volta è un assurdo che lo vedo così magro qua vabbè noi ci manteniamo positivi e restiamo fiduciosi l'ho messo sotto la nabbra all'ombra il nostro ultimo giorno e notte qui a Calagadi al parco stiamo andando a Matamata abbiamo lasciato il nostro perano circa le 6 un poco tardi però relativamente vogliamo godersi nostra ultima giornata ufficiale dicono che dall'altro lato sia più interessante e più animali vedremo forse ci tratterremo un giorno in più forse no quindi domani è tarda mattinata vedremo vedremo che cosa ci regalerà questa bellissima giornata perfetto ragazzi leonesse e leoni che fate c'è un otto leone che viene c'è una leonese che sta guardando due due gaselle che stanno che si stanno picchiando tra di loro quindi lei ha visto adesso si sta avvicinando leone ti frega sempre pensamone fossero tre invece ne sono sei si stanno spostando adesso li seguiamo un poco vediamo quello che fanno ho visto una scena fantastica quattro gazzelle lontane dai leoni vedono i leoni incominciano a camminare verso i leoni e uno pensa sia un maschio come sempre si è messo là davanti li guardava si è raddrizzato ha tirato le gambe posteriori e ha fatto una sagata mentre guardava i leoni lì straiati proprio a dire sono qui vieni a rincorrermi e sono là fermi a guardarli guarda stanno ancora più avanti se io fossi una gazzella ma io già ero non lo so nell'alto in bozwana e leone proprio sono molto sceme diciamo perché stanno in vista l'animale è più pigro non sa cacciare non sa cacciare non è un cacciatore veramente vero devi passare davanti l'animale incredibile mamma mia che profumo bellissimo è un spettacolo è completamente diverso di quello che abbiamo visto in ottobre bellissimo senti profumo sei bello come un fiore amore quella sei tu quella sei tu il parco del calahari ha dei paesaggi surreali e completamente diversi a seconda della zona in cui ci si trova per andare a matamata per andare a matamata dobbiamo attraversare uno dei due sentieri che taglia tra le dune e notiamo che da questo lato ci sia più abbondanza di erbivori era dal serengeti che non vedevamo cuscioli di gnu e qui abbiamo la possibilità di osservare una bella mandria ruminare tra i prati ma anche orici e struzzi a beverarsi assieme è tutto molto bello speriamo che la giornata ci regalera qualcos'altro prima di rientrare fa caldo dopo i leoni abbiamo continuato e siamo arrivati qui circa alle 11 adesso sono le due e mezza stiamo lavoricchiando un poco sotto questa pensilina dove ho infilato Totò alla meno peggio un po' d'ombra amore si ma il caldo si sente per una volta a posto il vero è concentratissimo bellissimo stanno un leone e una leonestra schiattati a terra a riposare proprio può cadere il mondo non si svegliano il leone sta così con la bava l'ultimo safari qui al Calari forse dico forse perché non sappiamo ancora se staremmo un'altra notte o no dipende da quanto produttiva sarà la mattinata Alba andiamo alla Réalba alla della Réalba c'è la la alla c'è la 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 l'area la 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 Non ho mai visto due avvoltoi che dormono, sono sulla cima dell'albero, la testa è in giù così, col collo che è ancora più lungo del normale perché questo la testa lo fa andare in giù, loro si sono svegliati? No, non resteremo un altro giorno, purtroppo non ci sono tanti gatti in giro quindi abbiamo deciso di continuare e va bene così. Sì, abbiamo fatto poco più di 100 km stamattina, zero, tanker vivoli, serpente, struzzi, struzzini, però insomma dovremmo vedere un po' di felini, un po' di azione, siamo saturi, è stato comunque il bedone che ci stiamo sputando sopra, all'inizio specialmente a vedere i leoni che mangiavano la carcassa, poi partire assieme, fare il picnic con i tre leoni, la sotto l'albero, quindi comunque è stato bello, ieri sì, otto leoni, e poi onestamente le dune in fiore, questi si sono presenti specialmente a te, giusto? Verde, sì, tutto verde, molto bello, molto bello, diverso, diverso di altra volta di ottobre. Gli animali ci sono, lo sparsi tra le dune, questo deserto qua è immenso, quindi non possiamo pretendere che sia come ottobre, però possiamo dire che resterà comunque il parco più bello, forse il primo che ci verrà in mente quando ci chiediamo della nostra esperienza in Africa. E niente, proseguiamo, stiamo ritornando al campeggio, matamata, e andiamo a fare il, vedremo di andare in Namibia, insomma, anche perché sono sei giorni che siamo nella terra di nessuno, perché noi sulla carta siamo già usciti da Sudafrica. Siamo senza internet, siamo senza niente, quindi proseguiamo. Perfetto, tutto fatto, abbiamo i documenti, abbiamo l'organizzato Totò, l'ufficio doganale proprio qui a fianco al campeggio. Ho un po' le farfalle nello stomaco e c'è un po' quella malinconia nel lasciare il Sudafrica dopo tre mesi che siamo stati qui, esperienze un po' brutte, ma anche tanti bellissimi ricordi. E poi c'è quel sentimento di essere eccitati, di eccitazione di andare in un nuovo paese, e quindi andiamo perché non perdiamoci in chiacchiere, facciamo questo passaggio ed entriamo subito a un nuovo paese. Qua, alla barriera, l'aburante ne abbiamo messo giusto abbastanza quello che serve, perché in Namibia costa di meno. Andiamo a farci mettere un bel timbro. Ho informato alla reception che stiamo asciando in Sudafrica, andiamo in Namibia. Grazie mille! Grazie! Grazie mille! Allora ragazzi, questa è la maniera della Namibia, siamo di nuovo nel parco, e ci sono stati dei problemi con il visto di Vera, apparentemente qui non fanno il visto all'arrivo. In Sudafrica non possiamo rientrare. Giusto per raggiungere il danno alla Vefa. Grazie mille!